La moglie di Gesù, quello che i Vangeli non ti raccontano. Allora, per motivi che poi cerchiamo di capire, d'altra parte i Vangeli sono farlocchi, cioè nel senso che sono stati scelti poi da un imperatore romano che, come dire, a Costantino, che nel Concilio di Nicea ha spartito, diciamo, ha eliminato tutti dei libri che non credeva utili e ne ha preso degli altri. E ricordiamo che, ovviamente, col Concilio di Nicea, che si è formalizzato il cristianesimo, l'imperatore Costantino, che tra l'altro era un pagano, quindi una cosa interessante è che il cristianesimo formalmente è nato per mano di un pagano, imperatore romano. Qualcuno dice che si è convertito a un punto di morte, questo non lo sappiamo, in punto di morte, come dire, ci si può convertire, ci si converteranno in tanti. Ma al di là di questo, la cosa interessante è che questo imperatore pagano ha deciso quali fossero i Vangeli validi e quali fossero quelli non validi, fondamentalmente. E a lui quello che interessava è che i cristiani non rompessero le balle all'impero romano, fondamentalmente, no? Per cui nei Vangeli, diciamo, questi Vangeli, come dire, canonici, non viene citata la moglie di Gesù. Ma in realtà questo è un qualcosa di falso, profondamente falso, anche da un punto di vista storico, soprattutto, perché nella società ebraica in cui visse Gesù, praticamente un uomo che era celibe, perché che non si sposava, diciamo così, pure anche Giuseppe, no? Il padre di Gesù si sposò a Maria in tarda età, perché magari rimase vedova, insomma, quello che è. Ma gli uomini che non si sposavano non erano neanche considerati uomini, tra virgolette. Sicuramente ci sarà stata una percentuale di omosessuali che comunque si sarà sposata pure allora, anche perché, diciamo, con l'omosessualità all'epoca c'era la lapidazione, quindi non era così semplice. Ovviamente un uomo che non si sposava non era, sicuramente non aveva credito da parte di nessuno. Tra l'altro, teniamo conto che Gesù era un ebreo tra ebrei, e questo, non sposarsi, sarebbe andato contro la legge, l'imperativo, diciamo così, morale ebraico, perché i libri, diciamo così, o la cultura o la tradizione ebraica diceva siate fecondi, diventate numerosi, popolate la terra. Ricordiamo che all'epoca non siamo come adesso che sono 8 miliardi di persone e quindi siamo sovrappopolati, all'epoca, adesso non vorrei sbagliare le quote, ma mi sembra che all'epoca il mondo, perlomeno quello conosciuto, perché poi c'era tutta la parte non conosciuta, fosse veramente esigua un 35.000 persone all'epoca di Gesù del mondo conosciuto, quindi poi ovviamente gli altri continenti, l'America, l'Australia, eccetera, eccetera, le Indie, non erano ancora 2.000 anni fa, ma all'epoca probabilmente forse di più, di 35.000, può essere 100.000, adesso vado, vado, ma erano veramente pochissimi gli esseri umani all'epoca ancora. Beh, ricordiamo che, ad esempio, nel 1700 eravamo in 700 milioni, quindi un decimo, quindi non è quello, la terra era spopolata all'epoca, 2.000 anni fa. Poi già, diciamo, ci siamo popolati, ma ammettiamo che fossero anche un milione, adesso non ho idea, insomma, ma andrò a vedere dopo. Comunque, insomma, la cosa era popolate la terra. Inoltre, Gesù era un rabbì, un rabbì e una figura, un maestro, diciamo, quindi una figura pubblica, fondamentalmente, che spiegava le Sacre Scritture. Quindi il celibato di Gesù non avrebbe dato credito, o l'avrebbero considerato gay, oppure non l'avrebbero preso comunque in considerazione, non l'avrebbero considerato maschio. Quindi è molto probabile anche che Gesù avesse dei figli, anzi, è interessante la dinastia di Gesù. Gesù sicuramente aveva anche, ha avuto anche dei figli. Poi è ovvio che la teologia, no? Non ha voluto farlo padre e marito, anche perché, altrimenti, se lui era figlio di Dio, sarebbe stato, come dire, avrebbe dato una discendenza, una discendenza divina, no? Che è un po' il tema anche trattato da un certo punto di vista nel Codice da Vinci, no? Questa discendenza di Gesù. Perché c'è una discendenza da parte di Gesù. Gesù ha avuto dei figli, aveva una moglie. Esistono, diciamo, altri personaggi che sono rimasti celibili. Ad esempio, Paolo di Tarso, il profeta Geremia. Però erano, non è una situazione impossibile ovviamente, però è veramente poco probabile. E c'è da dire anche che nei Vangeli canonici non si parla mai di una sposa di Gesù né di un suo matrimonio, ma troviamo riferimenti, diciamo, alla famiglia d'origine di Gesù e le persone che vivevano con lui. Ma il tema del matrimonio in sé è presente, è presente, diciamo, in diversi passaggi dei Vangeli. Ad esempio, ricordiamo le nozze di Cana, dove in quell'occasione Gesù compie il primo miracolo, tra virgolette. Anche il tema del celibato è affrontato da Gesù, però nel discorso sugli eunuchi, no? Cioè gli eunuchi, quelli che gli eviratti fondamentalmente. Infatti Gesù dice, vi sono infatti gli eunuchi che sono nati così dal ventre della madre e ve ne sono alcuni che sono stati resi eunuchi dagli uomini. Quindi vi sono altri che si sono fatti eunuchi per il regno del Cieli. Chi può capire, capisca. Quindi fondamentalmente il celibato era legato agli eunuchi. Tra le ipotesi più accreditate è che Maria Maddalena potesse essere la sposa di Gesù. Infatti alcuni studiosi hanno valutato in modo, come dire, molto probabile che la sposa di Gesù fosse proprio Maria Maddalena e che, ad esempio, nel famoso quadro dell'ultima scena si vede anche che l'Apostolo Giovanni, che è vicino a Gesù, viene, diciamo, anche ripinto con sembianze femminili. Infatti si pensa che tra i messaggi nascosti di quel quadro ci fosse proprio il fatto che rappresentasse, diciamo, le nozze di Gesù e la sposa di Gesù fosse proprio Maria Maddalena sotto le mentite spoglie, diciamo, di Giovanni. Alcuni studiosi hanno avanzato questa ipotesi appoggiandosi a uno dei Vangeli apocrifi, che sono quelli scartati. Ricordiamo che i Vangeli apocrifi sono quelli scartati. E' il Vangelo di Filippo, che è un testo gnostico, che in questo Vangelo apocrifo si parla proprio di Maria Maddalena come la compagna di Gesù, amata da lui più di tutti gli altri discepoli. Un altro testo che ha riportato alla luce, diciamo, il fatto che Gesù avesse una moglie, è un testo copto. Ricordiamoci che la chiesa copta è una chiesa cristiana, ma alcuni libri, diciamo, ad esempio il libro di Enoch, non viene considerato valido per la tradizione cristiana, ma viene considerato valido per la tradizione copta. Ed è la traduzione, diciamo, di un documento in greco, questo testo copto, chiamato Vangelo, proprio Vangelo della moglie di Gesù. Quindi esiste proprio un Vangelo della moglie di Gesù. E l'esistenza di questo testo è molto recente, perché è stata annunciata nel 2021 da una studiosa di Harvard, la famosa Università di Harvard, e in questo testo si parla proprio del Vangelo della moglie di Gesù. Un'altra ipotesi, diciamo, è legata al fatto che dopo la crocifissione sembrerebbe che Maria di Magdala, che per qualcuno è proprio Maria Maddalena, fuggì dalla Palestina per andare in Francia, ed era incinta. E quindi avrebbe portato con lei il figlio di Gesù in Francia, dalla Palestina alla Francia, e lì praticamente avrebbe avuto origine la dinastia dei Merovingi. Quindi, secondo anche proprio il libro di Dan Brown, la dinastia dei Merovingi sarebbe la dinastia, diciamo, la stirpe, la stirpe di Gesù. Comunque, in generale, anche nei Vangeli canonici, la figura di Maria Maddalena ha avuto un ruolo fondamentale. E' stata la prima a ricevere l'annuncio della risurrezione. E quindi è da pensare che tra Maria Maddalena, anche nei Vangeli canonici, veniva fuori, e Gesù c'è un rapporto veramente forte, veramente solito. Ecco, quindi queste sono le ipotesi percreditate. Poi, non prese in considerazione, diciamo, dalla Chiesa, sia per, come dire, anche recentemente, da un certo punto di vista, soprattutto la Chiesa Cattolica, imporre il celibato ai preti o comunque alla classe ecclesiastica. Perché, ovviamente, per emulare, tra virgolette, la figura di Gesù. È evidente che se Gesù fosse stato sposato, beh, veniva difficile poi imporre il celibato ai preti. Quindi, le ipotesi percreditate sono che veramente Gesù fosse sposato, avesse avuto uno o più figli, che la moglie di Gesù fosse Maria di Magdala o Maria Maddalena. Che probabilmente sia Maria di Magdala che Maria Maddalena potrebbero anche coincidere con un'unica persona. Per questo video è tutto. Ti do appuntamento al prossimo. Seguimi su Instagram, Massimo Terramasco Fisciale, su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. E fai donazioni al canale, se ti va di farle. E fai donazioni al canale, se ti va di farle.